e ciao amici benvenuti tutti in questo nuovo video io sono andrea manciotti il vostro tecnico digitale e oggi vi faccio vedere cosa stiamo facendo cosa stiamo mettendo in ventola come vi avevo accennato ritorniamo al nostro canale vi stavo parlando di energie rinnovabili colonie elettriche di ricarica per la auto e via discorrendo oggi vi faccio vedere una delle nostre installazioni questo è un impianto da 6 kilowatt sono 14 pannelli da 410 watt l'uno e in pratica questo impianto ha anche una batteria di accumulo anche una batteria di accumulo da 10 kilowatt e adesso vi faccio vedere un po come è fatto l'impianto fotovoltaico eccoci qua amici purtroppo la fine del video non c'è perché ho avuto un problema col montaggio e in pratica ho perso il video purtroppo quindi cercherò le prossime volte di far vedere un impianto completo come è fatto dalla a alla z questo è uno dei tanti impianti che stiamo facendo che stiamo che stiamo installando in tutte le marche quindi ce ne saranno altri e altre ancora e se volete più informazioni io nei prossimi video sicuramente vi farò vedere altri nuovi impianti come funzionano le batterie come funzionano i pannelli e molto molto altro ancora ci saranno come ho detto grandi novità sul campo energetico sul campo dell'innovazione e questa sarà una svolta perché perché il mondo dell'energia nel mondo dell'ecosostenibilità è molto importante quindi questo era uno dei miei primi video vi volevo far vedere un po' come era fatto l'impianto iniziando dai pannelli e poi scendendo sotto dall'inverter e dalla batteria e tutto il resto del quadro elettrico e tutto quanto vi farò vedere altri video e mi raccomando spero che purtroppo è andata un po così questa volta e ci vediamo ai prossimi video dove farò vedere altre altre novità quindi non mancate iscrivetevi al canale lascia il like e ci vediamo ai prossimi video ciao